Il ministro per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella sarà l'ospite dell'iniziativa del 23 novembre messa in campo dal comune all'interno del cartellone non è solo il 25 novembre. Dal 13 novembre al 24 spettacoli teatrali, convegni e iniziative per il mese contro la violenza sulle donne. 365 giorni donne inoltre è un protocollo importante che sarà presentato il 25 in comune, siglato con il centro antiviolenza dell'associazione Donatella Tellini. Innanzitutto è la seconda edizione del cartellone, un cartellone che quest'anno si arricchisce di iniziative. Pensiamo sempre alla scuola, all'attività di formazione, di sensibilizzazione contro la violenza alle donne. Ci sarà una campagna importantissima di promozione del 15-22 il 23 novembre quando la ministra Eugenia Roccella sarà con noi per questa promozione. Ma io saluto con grandissimo favore questo protocollo intervenuto, firmato tra il comune dell'Aquila e il centro antiviolenza dell'associazione Donatella Tellini che presenteremo il 25 è il lavoro orgoglioso di tutta un'amministrazione per tutte le donne dell'Aquila e non solo che da oggi con questo protocollo si possono sentire più forti. Il cartellone è molto ricco, educare al genere è la differenza all'incontro di Alberto Pellai, il 13 con gli studenti e le studentesse del Cotugno. Il 21 Daniela Baldassarre è la protagonista dello spettacolo Dante ha connesso. Il 22 novembre questo non è amore all'interno del premio Borsellino in collaborazione con Polizia di Stato e Associazione Magistrati. Dal 21 al 26 all'emiciclo una mostra dedicata alle donne. Il 23 ci sarà il ministro, il 25 il protocollo col centro antiviolenza, ma anche lo spettacolo corale degli studenti e delle studentesse del Bafile sotto ai portici di San Bernardino. per chiudere la giornata con un evento derrota ricondanzatrice e letture.